Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto casse acustiche portatili AUNAIDA KIPOD. Docking Station Universale per iPhone e iPod alle ottime caratteristiche audio con 600 W di potenza massima, ingresso AUX e uscita video. Design raffinato con pannello frontale laccato. La AUNAIDA KIPOD è accento acuto una Docking Station Universale per iPod iPhone, che non passa inosservata per il suo design elegante e pieno di stile. La Docking Station è accento acuto compatibile, tra l'altro, con i seguenti dispositivi, iPhone, iPhone 3g, iPhone 3gs, iPhone 4, iPhone 4s, iPod Talk, iPod Classic, iPod 5g, iPod Nano. Si ricorda che l'iPhone nell'immagine non fa parte della cosegna. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazon IT, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione.